Il pozzo di grantola è definitivamente pronto, diciamo che dopo le lavorazioni di cui avevamo già parlato l'impianto è stato collaudato nelle scorse settimane, i collaudi sono andati a buon fine e abbiamo come ultimo step effettuato le analisi definitive per verificare se il trattamento svolgeva il suo ruolo per cui è stato progettato e realizzato ed effettivamente siamo riusciti a rientrare nei limiti imposti dalla normativa dal decreto legislativo 18 del 2003, pertanto il pozzo è utilizzabile, il pozzo eroga acqua potabile e in questo momento non viene utilizzato ma appena ce ne sarà la necessità per condizioni magari di stress dell'acquedotto di grantola provvederemo ad utilizzarlo e quindi a rispondere appunto al deficit idrico eventuale che attualmente non c'è perché attualmente ciò che diciamo le sorgenti di grantola erogano è una portata che basta per l'intero acquedotto in questo momento. Quella zona del territorio intorno a grantola, i comuni limitrofi comunque sono dei comuni insieme allo stesso grantola che hanno avuto l'anno scorso ovviamente un deficit idrico dato dalla siccità, pertanto questo pozzo sicuramente rientra in un progetto più ampio in cui sicuramente di questo surplus di acqua potabile potranno giovarne anche i comuni limitrofi. Grazie. Grazie. Grazie.